Romina Carrisi, così non si era mai vista, lo scatto spiazza Romina Carrisi ha voluto condividere con i suoi fan una immagine in cui ha mostrato una versione di se stessa totalmente inedita e inattesa Romina Carrisi, figlia dell'ex coppia nella musica e nella vita di Albano e Romina Power ha voluto condividere con tutti i suoi fan sui social una versione molto particolare e nuova di se stessa La Carrisi soprattutto durante l'ultima edizione del programma televisivo Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, è stata spesso ospite facendosi conoscere da tutto il pubblico La donna dunque è riuscita a conquistare gli spettatori, mostrandosi con il suo carattere dolce e facendo vedere diversi lati del suo carattere Romina Carrisi, una versione inedita È stato sul suo ufficiale di Instagram che Romina Carrisi ha voluto condividere con i suoi fan una stories molto particolare Recentemente infatti la donna ha pubblicato una immagine che l'ha vista in una versione molto diversa dal solito e dunque totalmente inedita di se stessa Nello scatto, simpatico e ironico che ha condiviso con i suoi fan, si vede la donna sorridente e con un look totalmente estivo mentre trasporta un passeggino pieno di mazze da golf Nella sua stories la Carrisi ha anche aggiunto l'hashtag, vita d'azia, puntualizzando su quanto sia diversa e poco glam questa versione di se stessa, mentre si dedica al suo ruolo da zia In effetti la donna appare in una veste totalmente diversa rispetto a quella televisiva in cui l'abbiamo imparata a conoscere e apprezzata Immagini dunque che fanno davvero sorridere, e che svelano ancora una volta particolari i nascosti della Carrisi Molti latidi se li abbiamo scoperti, come già accennato, durante la trasmissione televisiva oggi e un altro giorno Durante un'intervista rilasciata a Serena Bortone, la Carrisi ha avuto anche modo di raccontare la propria storia di vita, non tralasciando nemmeno ricordi riguardanti la sorella Ilenia o la zia Taryn Power che purtroppo è venuta a mancare lo scorso anno In quella intervista non sono mancate neanche le lacrime, che hanno mostrato un carattere forte, della Carrisi che non ha avuto timore a mostrare anche le sue fragilità Il rapporto con la propria zia Taryn pare fosse davvero molto forte, e ha dunque sentito di conseguenza davvero tanto la mancanza di quest'ultima nella sua vita Grazie